Possiamo dire che tutto abbia inizio circa 3 milioni di anni fa quando il pollice opponibile e la cosiddetta presa di precisione ci hanno permesso di fare questa cosa. Da questo puntino ai segni grafici che caratterizzano ancora i brand di oggi possiamo dire che sono passate migliaia di anni, innovazione tecnologica, ma nella sua gestualità conserva ancora tutta la sua essenza primitiva. Per comunicare in maniera efficace un brand ha bisogno di due cose, messaggi e azioni. Le azioni sono tutto ciò che va a modificare la realtà, i messaggi e come raccontiamo queste azioni al mondo. L'alfabeto visuale è un codice che può cambiare nel tempo ed evolvere a seconda delle esigenze di comunicazione ma anche dei trend, però è uno strumento fondamentale perché permette al brand di essere riconosciuto tra migliaia di altri.